Il sottosegretario alla presidenza del consiglio Luca Lotti è arrivato giovedì a Cosenza dove insieme al ministro alle infrastrutture delle Rio ha incontrato i lavoratori della provincia di Vibo Valencia, i quali gli hanno chiesto un intervento del governo per il pagamento degli stipendi arretrati e la risoluzione delle criticità in cui versa l'ente intermedio. Abbiamo ascoltato dai dipendenti problemi che sono gravi riguardo il dissesto della provincia vibonese, ha affermato Lotti. Ora aspettiamo una loro nota che arriverà venerdì e poi ci metteremo al lavoro per dare una mano. Nel pomeriggio Lotti si è trasferito nel capologo di regione Catanzaro per l'insediamento del forum dei sindaci PD della Calabria alla presenza del governatore Mario Liverio, del presidente del consiglio regionale Nicola Irto, del segretario regionale delle PD Ernesto Magorno e del presidente della provincia di Catanzaro Enzo Bruno dopo l'arrivo di Renzi a Mormanno sulla 3. A Lotti abbiamo chiesto quale sarà l'impegno prossimo del governo per quanto riguarda le altre infrastrutture calabresi. È importante la presenza di Renzi quest'oggi ma vogliamo porre l'attenzione anche sulle altre infrastrutture, 106 ionica e ferrovie in primi. Parliamo dopo, però l'abbiamo già detto, della 106 ionica ha parlato oggi il presidente, abbiamo parlato anche delle ferrovie, insomma un'attenzione particolare del governo nei confronti della regione Calabria che è testimoniato anche oltre che dalla presenza anche dagli impegni. Alta velocità, Salerno Reggio? Grazie, arrivederci.